32.594 fra utenti e visitatori contro i 31.724 del 2013, 600 nuovi iscritti che si aggiungono ai 387 del 2013, 16.797 volumi in prestito con un aumento anche in questo caso rispetto ai 16.124 del 2013. Sono questi i dati principali a chiusura del 2014 della biblioteca civica a Leonardo Lagorio di Imperia. Sono riscontri importanti, dichiarano il sindaco Carlo Capacci e l'assessore alla cultura Paolo Strescino, numeri che indicano come la città abbia un movimento volto all'apprendimento e allo studio che trova perfetta espressione nella biblioteca civica. La struttura nobilita il lavoro svolto da Leonardo Lagorio che per 40 anni ha prestato la propria opera per l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e che merita l'intitolazione di questo polo culturale che è di facile accesso grazie anche alla sua collocazione centrale. Dal 2009 la biblioteca ha effettuato un autentico salto di qualità, aggiunge la direttrice Silvia Bonjean. L'ex palazzo di giustizia, divenuto nuova sede dopo idonea ristrutturazione, ha consentito di avvalersi di una locazione che risponde ai canoni di moderna fruibilità. La disponibilità di documenti sulla storia e la cultura locale utili a ricostruire il passato nella Liguria di Ponente, specialmente della provincia d'Imperia, sono tra gli elementi in grado di suscitare l'interesse e la curiosità nel lettore. Altri motivi di richiamo della biblioteca imperiese sono le raccolte dell'ex segretario del PCI Alessandro Natta e della biblioteca dello storico Francesco Biga.